Mi sono accorto nel vederlo dopo tanto tempo che c'è stata e c'è forse una sorta di pregiudizio. Stavo per chiedergli. Tant'è vero, no, no, c'è, 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 anche perché poi questo fa parte di un'Italia, divisa, gruppi, tribù, massoneria e quant'altro, c'è una sorta di pregiudizio. E mi è dispiaciuto che nel festeggiare i 60 anni della televisione non c'è stato nemmeno un piccolo ricordo, ma proprio per l'effetto che la trasmissione, c'erano ascolti da 14 milioni, 13 milioni, non era una cosetta da poco, un impatto, evidentemente la gente aveva voglia di ridere, ma di sapere anche che non si era mai detto, cos'era la politica in quegli anni vista attraverso una vignetta televisiva, un graffio... Sì, in fondo c'era stato, prima c'era stato solo uno schese che faceva... Era un'altra cosa, era un'altra cosa. La trasmissione era tutta in diretta per due ore e mezza, provata, scritta, non improvvisata, se non qualche volta, quando accadeva qualcosa con il pubblico, naturalmente sì. Ma non erano imitazioni, erano, perlomeno parlo di Oreste, di me, di Pippo, erano, come posso dire, dei personaggi, anche quando si rifacevano quelli famosi, erano delle vignette, erano, come posso dire, delle cifre di svergolamento, di tic che quei personaggi che si facevano avevano. E poi c'era questa signora Leonida che in quel momento era il trionfo in quegli anni delle signore ignoranti, nel senso che venivano da lì, però avevano fatto i soldi, la famiglia, il marito, con i principi di come si vede oggi e questa signora era isterica, simpatica, ignorante, parlava malamente, però si dava un atteggiamento, traduceva il dialetto in italiano. Me lo ricorda un attimo come faceva? Prego. Me lo ricorda come faceva? Diciamo che la signora Leonida è andata in pensione. È andata in pensione.